Siamo con Claudio Lattanzio che è il presidente FLAG Costa di Pescara per presentare questo bianco e azzurro pesce e vino bianco, evento eno gastronomico per la conoscenza e la promozione del pescato dell'Adriatico. Si racconterà la vita dei pescatori, i valori nutrizionali del pescato, il marchio di prodotto miglio zero, quando? A Pescara, 20-21-22 maggio, dalle 18.30 alle 24, porto turistico marine di Pescara all'interno del Salone Nautico. Innanzitutto, presidente, cos'è il FLAG? FLAG è un acronimo di parole inglesi, ovvero di Fisheries Local Action Group. Siamo un consorzio dove la maggioranza, 49% è del comune di Pescara, 51% è di privati. Consorzio nato per la gestione di fondi comuni europei erogati per il tramite della regione per mettere in piedi tutte delle iniziative che ruotano intorno al mondo della pesca. Iniziative come queste, i colori che contraddisseguono la città di Pescara bianco, in questo caso è azzurro, vino e mare e pesce. Con nubio perfetto, vino bianco, abbiamo il famosissimo trebbiano ma non solo, il pesce azzurro del nostro Adriatico che tra l'altro ha delle qualità particolarissime, poco conosciute. Il nostro intento è quello di far conoscere a quante più persone possibili le bontà della nostra terra e del nostro mare. Ci sarà anche un momento di dibattito? Assolutamente sì, ci saranno due momenti di dibattito, uno con due comandanti di imbarcazioni del porto di Pescara che ci racconteranno la loro vita del mare ed uno in collaborazione con Slow Food Pescara dove parleremo naturalmente delle qualità nutrizionali del nostro pesce azzurro e di quanto sia la cosa migliore che si possa fare, mangiarlo.